Diciannovesima giornata mondiale della vita consacrata, una tappa dell'anno dedicata ai religiosi e alle religiose, voluto da Papa Francesco, un evento di respiro diocesano celebrato soltanto in cattedrale. Credo che siamo protagonisti tutti perché la chiamata a vivere i consigli evangelici è una chiamata dal Signore a tutti i cristiani. Alcuni durante la storia della comunità cristiana hanno deciso di vivere di maniera approfondita, dedicata completamente la forma di esprimere questi consigli evangelici, ma i consigli evangelici sono una chiamata come stile di vita per tutti i cristiani. Abbiamo ricevuto un grande dono, personalmente perché ogni persona consacrata ha ricevuto questo dono dal Signore, ma diventa poi di conseguenza un dono alla Chiesa. Però diventa un dono se noi corrispondiamo, perché è un dono se tu dai qualcosa in cambio. E questo il Signore ci ha amato e noi lo amiamo attraverso la nostra consacrazione, la nostra dedizione a Dio e agli altri. La giornata coincide con la festa della candelora, la benedizione delle candele, simbolo di Cristo, luce per illuminare le genti. E in cattedrale, prima della messa, presieduta dal Vescovo, la liturgia della luce all'altare della Madonna del Popolo, poi la processione lungo le navate del Tempio, con le candele accese. Affollato il Duomo di religiosi, religiosi in particolare. A Piacenza le congregazioni maschili sono sei, quelle femminili ventidue, trenta le comunità. La celebrazione eucaristica introdotta dal Vicario Generale Monsignor Illica. Preghiere, musica, canto della Corale Santa Maria di Campania, la parola. Il celebrante, vi invito, ha detto, a stringervi con affetto alle persone consacrate. Ringraziamo il Signore della loro presenta, un dono prezioso per la comunità. Nell'Omelia ha completato le parole chiave del Papa. Svegliate il mondo, illuminatelo con la vostra testimonianza, ha continuato. Siate gioiosi, siate coraggiosi, siate uomini e donne di comunione. Andate per le strade del mondo, l'invito del Papa, e prima di lui i fondatori delle congregazioni, diverse per scelta, i malati, gli anziani, i bambini, l'educazione, la formazione scolastica. Religiosi e religiose sono un piccolo esercito anche sulle nostre strade, sicuramente degni di rispetto, di attenzione, di gratitudine. Grazie.